Gli strascichi dell'aggressione subita domenica sera, Don Pempino Lomuscio, parroco di San Nicola ad Andria, li sta vivendo a tre giorni di distanza da quell'episodio, tra visite mediche e la denuncia presentata al commissariato di polizia. Una storia che con ogni probabilità prende le mosse da lontano, dai giorni in cui l'aggressore, apparentemente in stato di necessità, si era rivolto a Don Pempino per chiedere aiuto. E il sacerdote, 79 anni, non avrebbe lesinato qualche aiuto in denaro perché quell'uomo potesse far fronte ai bisogni primari. Le richieste però si sarebbero fatte sempre più insistenti e probabilmente anche minacciose, alle quali Don Pempino Lomuscio avrebbe opposto un cortese rifiuto perché, ha ragionato il parroco, sono tante le persone in difficoltà al quale tendere una mano. Quel rifiuto avrebbe provocato la reazione dell'uomo che domenica sera ha aggredito Don Pempino. Il sacerdote, mentre faceva rientro nella sua abitazione in via Pendio San Lorenzo, è stato sorpreso alle spalle e colpito alla testa. Don Pempino è stato soccorso immediatamente da alcuni familiari che erano in casa ed accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Andria, dove è stato medicato e sottoposto a ulteriori controlli che hanno escluso il trauma cranico. Gli agenti del commissariato di polizia hanno avviato le indagini per individuare l'aggressore.